Guardate com'è facile da fare questo antipasto con i crackers. Ha un cuore cremoso alla ricotta. Frullate il prosciutto cotto, io ho scelto quello di Praga. Lavorate poi la ricotta, aggiungete il prosciutto cotto, mescolate bene fino ad ottenere una crema bella omogenea. Se gradite potete aggiungere anche dell'erba cipollina o in alternativa del prezzemolo. Prendete ora il cracker, aggiungete la crema, la ricotta e il prosciutto e chiudete con il secondo cracker. Con una spatola o una lama di un coltello eliminate poi la crema in eccesso. E ora potete aggiungere esternamente anche dei semi di sesamo oppure dell'erba cipollina oppure della cipolla essiccata. Eventualmente per i bambini li potete servire anche al naturale e se li provate fatemi sapere.